Considerata l'elevata presenza di valori paesagistici e sensibilità ambientali nell'area indicata per l'intervento proposto, si ritiene che la trasformazione del sito possa indurre significativi e negativi impatti sul contesto paesagistico tutelato. Con queste parole la Soprintendenza di Lecce ha bocciato la proposta presentata dal Comune di Gallipoli e finalizzata all'utilizzo della pineta multifunzionale situata nel tratto di litorale tra Lido San Giovanni e Canale dei Samari, quale area parcheggio stagionale da 300 posti utilizzabile per un massimo di quattro mesi. Ora dopo la frenata dell'ufficio periferico del Ministero della Cultura spetta al Comune Ionico presentare le sue contradduzioni valutando anche altre proposte oltre a quella bocciata. Tra le alternative potrebbe tornare utile l'attivazione dell'area parcheggio nella zona artigianale. 340 posti auto che però già l'estate precedente non erano stati molto utilizzati dai turisti. Oltre a questa il Comune potrebbe pensare anche alle aree più centrali, all'ingresso della città, quale l'area mercatale, quella di via Zacà e via Rossellini. Dagli scranni dell'opposizione si sollevano dubbi e perplessità. Si tirano in ballo sempre gli stessi parcheggi che sappiamo perfettamente, ce la possiamo raccontare quanto vogliamo, ma sappiamo perfettamente essere dei parcheggi distanti dai centri di interesse della città. Alla luce di quanto letto negli scorsi giorni però una domanda sorge spontanea. Che senso hanno avuto tutti quei tavoli tecnici che presumiamo abbiano visto coinvolti tutti gli enti che appunto dovevano risolvere o comunque chiamati a decidere su determinate questioni? Ci chiediamo che effetti abbiano avuto e che senso a questo punto abbiano avuto se uno degli enti preposti a autorizzare un piano parcheggi piuttosto che un piano mobilità del genere poi si esprime con un parere negativo.